Il comune cremonese di Ostiano ha celebrato il pittore Bartolomeo Manfredi nel quarto centenario della morte avvenuta a Roma nel 1622. Il 4 e 5 novembre si sono svolti al Teatro Gonzaga un convegno, un monologo teatrale ed un concerto, in onore dell'artista nato ad Ostiano nel 1582. Bartolomeo Manfredi costituì a Roma l'avanguardia del caravaggismo, ossia di un gruppo molto variegato di artisti che dopo la morte di Caravaggio ne raccolsero il testimone. È una giornata di studio che abbiamo organizzato come amministrazione comunale per non dimenticare che quest'anno è il quattrocentesimo anniversario della morte di forse uno dei figli più illustri di questa terra che è il pittore caravaggesco Bartolomeo Manfredi, nato a Ostiano nel 1582 e morto a Roma nel 1622. Grazie a conoscenze, amicizie e alla disponibilità dei relatori siamo riusciti ad avere un parterre di altissimo livello che ci ha illustrato sulle novità che questo artista molto importante per la storia dell'arte seicentesca ha operato. Si tratta di un artista di primo piano chiaramente all'interno della stretta cerchia di Caravaggio che probabilmente conobbe direttamente Caravaggio e si è formato la sua figura di artista probabilmente direttamente con Caravaggio. Poi chiaramente si emancipa dopo la fuga di Caravaggio da Roma e la morte di Caravaggio nel 1610. Tutta la sua carriera sarà a Roma, muore abbastanza giovane a 40 anni nel 1622 e dà luogo a una serie di quadri che avranno anche molta fortuna nella determinazione di un genere che sarà quello appunto dei giocatori al tavolo, concerti di musica che avranno molta fortuna e avranno successo anche in una serie poi di seguaci che ripeteranno appunto questi soggetti che hanno ripeto molta fortuna in una clientela che evidentemente in quegli anni apprezzava molto questi quadri di ambito diciamo caravaggesco insomma.